Se come dicono ad ogni azione corrisponde una reazione, allora per il Gesan Lemura-Lucca è il momento di reagire. Si sa che talvolta, quando le stagioni nascono sotto una cattiva stella, vede aver perso subito Jelling Agnew, poi talvolta risulta complicato rimetterle in sesto. Il mercato non offre soluzioni valide, o forse la società non può permettersi un altro investimento. O più semplicemente, sta solo prendendo tempo. Di certo anche nella gara di sabato sera, sul campo del neopromosso Bruschi-Valdarno, sarà la solita squadra che da qualche partita a Naspa e che mai dall'inizio del campionato è stata convincente. E pensare che in pre-campionato, era il 23 settembre scorso, al Palatagliate, Lucca si impose con relativa facilità. Un mese spiccioli dopo, però, il rischio è che la squadra di Andreoli, oltre all'Agnew, abbia smarrito anche quella sicurezza e consapevolezza nei propri mezzi che spesso risulta l'arma in più. Altrettanto evidente che classifica alla mano, Valdarno ultima zero punti con Crema, ma Lucca ammestamente penultima con due punti con Brescia, il match del Palatagli è già uno snodo importante di questo avvio stagionale. Insomma, si dovrà capire se questo Lemura, splendido quarto lo scorso anno, può davvero rischiare di rimanere imbischiato in una lotta che fino a pochi tempi fa sembrava impensabile. Aggiungiamo che finora l'unica vittoria delle Biancorosse è maturata nella gara interna contro il Crema di Beppe Piazza, in quella maledetta serata dove ha fatto crack il ginocchio della Agnew. Serve una vittoria e due punti fondamentali per ritrovare il sorriso e il morale giusto, anche perché domenica 6 novembre al Palatagliate calerà un certo schio e lì ci sarà davvero poco da ridere.